In uno scenario economico di cambiamenti epocali, Credito Valtellinese vuol farsi trovare pronto e dare un segnale di fiducia. È quello che il presidente Mirofiordi ha lanciato oggi a Morbegno nella prima assemblea della banca dalla sua trasformazione in società per azioni. Mi pare che il confronto sia stato utile, costruttivo e devo anche dire che sono molto lieto del fatto che il bilancio è passato con oltre il 99% di voti favorevoli e questo in una prima assemblea della società per azioni vuol dire che anche la componente dei fondi comuni che si sono presentati a questa nostra assemblea ha votato a favore del bilancio, quindi sono soddisfatto dell'andamento di questa nostra assemblea. Perché il presidente del Creval oggi ha detto basta fango? Ma perché c'è sempre qualche azionista che interviene rappresentando teoriche, l'esistenza di teoriche concessioni di credito fatte in modo amicale o non corretto. Questo non è tollerabile. Noi abbiamo un sistema di valutazione e erogazione del credito estremamente puntuale, pienamente rispondente alle indicazioni, alla normativa di vigilanza e di legge. La banca vive di fiducia e di reputazione e io ci ho tenuto con grande energia, come mi è stato poi detto, ma con grande energia a dire che in tema di fiducia che vogliamo mantenere e di reputazione non siamo secondi a nessuno. Errori fatti, Fiordi non li nasconde. Ad esempio ammette l'acquisto di Carifano nel 2008, ma sfido chiunque, così si rivolge alla platea dei soci, a dire in onestà che allora si potesse prevedere quanto accaduto dopo. Il conto della crisi l'hanno pagato le banche, le famiglie hanno retto, i crediti deteriorati vengono dalle PMI, quelle a cui dice ci si chiedeva di non chiudere i rubinetti continuando a fare la banca del territorio. Noi abbiamo una banca che oggi è un po' a due velocità, c'è la banca che eroga servizi, credito, ha un'offerta digitale estremamente completa e innovativa e di grande successo che sta viaggiando bene e che riesce anche a fare margini. E poi c'è una banca che deve raccogliere ancora un po' di eredità di 10 anni di crisi che deve continuare a svalutare. Il risultato è che si vede ancora un bilancio appesantito dalla banca di prima, ma se lo guardiamo in prospettiva dobbiamo tenere conto che la banca che opera è una banca che sta lavorando molto bene grazie a tutti i nostri dipendenti e collaboratori mentre la banca di prima che sconta l'eredità del passato è una banca che finirà perché quel problema piano piano andrà a esaurirsi. Quindi io mantengo un moderato ottimismo. Mentre sull'ipotesi di fusione, così come su altre prospettive strategiche, gli advisor incaricati hanno da poco iniziato il lavoro di studio nessuna decisione c'è sul tavolo, dice Fiordi, ma vogliamo essere pronti a qualsiasi scenario l'action plan 2017-2018, dice il direttore generale Mauro Selvetti, procede secondo la tabella di marcia non solo con l'aggressione ai crediti non performanti, ma anche con lo snellimento dei costi operativi attraverso due leve la riduzione del numero di filiali, 30 hanno già chiuso, e l'esodo volontario di 234 dipendenti nel corso dell'anno fattore di competitività decisivo intanto è lo sviluppo dell'innovazione digitale, che ha visto Creval premiata anche da Abi Io sono solito dire che come saremo tra 5 anni, nessuno ancora lo sa, sicuramente saremo molto diversi da come siamo ora e questo già si vede, si vede nei numeri che sono sempre a doppia cifra come variazioni sull'anno dal punto di vista degli utilizzi delle app da parte del nostro milione di clienti sono continuamente in aumento, sono in aumento i download dell'app, la gente in sostanza gestisce il proprio rapporto con la banca sempre più dall'unica cosa che ciascuno di noi ha in tasca che è uno smartphone e questo rivoluzionerà completamente il modo di fare banca, lo sta già facendo ma lo farà molto di più in prospettiva